che video e video d'egitto, prima vi ho fatto un video, poi è venuto in mente una cosa, volevo farvi vedere una cosa molto particolare delle piante perché certe piante non per forza devono avere foglie per fare fotosintesi allora vi mostro una pianta particolare e vi faccio un breve ragionamento allora, quella qua è la pianta incriminata, no, di cui vi parlavo, vedete come le foglie, ma guardate come sono minute possono queste foglie fare fotosintesi? prego, possono queste foglie fare fotosintesi per tutta la pianta? no e come fa a vivere allora? è lo stesso che fa fotosintesi, vedete che è verde allora, questo principio ricordatevi anche sulle vostre piante, quando avete i cacci che sono ancora semilegnosi o erbaci, che sono verdi o il tronco, parte del tronco che è verde, ricordatevi che quella zona sta facendo anche un minimo, ma sta facendo fotosintesi sempre, quindi ogni potatura che andate a fare, che andate a togliere le parti verdi calcolate bene che non solo fogliame, ma fa fotosintesi è un principio molto interessante riprendiamo anche il gattino basta studio, bonsai